dai però che vanno avanti tutti giù che vai a pulire dai via via avanti vai dietro a spagna vai facciamo di qua no di là è dritta e ma è scomodo come sei adesso bravo vai è tutta dritta deve andare la e deve andare la e poi giri fuori perché di rita non arrivi su vai devi girare sto andando in giù la gamela prende la rincorsa e adesso si ribalta perché è spaventato tu no? non tagliarla dai dai taglia dai taglia non ti non ti non ti 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 non ti 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 Grazie a tutti.